Disclaimer, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non a TICMIL e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi di conseguenza gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. Pertenza su dischi e CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere del denaro in tempi previ a causa della leva. Il 72% e il 71% dei conti di clienti al dettaglio perdono il denaro. Buongiorno a tutti, chiedo scusa a Giuseppe Cericola per l'ingresso ma questa mattina è un'edizione speciale, quella di Market News. Siamo in contemporanea proprio con un webinar come avrete intuito da quella che era la voce di Giuseppe Cericola perché appunto spazio alla didattica. Questa mattina con Giuseppe Cericola stessa, country manager Italia di TICMIL e Nicola Parra, trader indipendente. Per tutto il resto l'interattività come sempre su Vision Forks è rimane la stessa ma non perdo altro tempo, ricedo il microfono, meglio la voce a Giuseppe Cericola per dare proprio avvio a quello che è il webinar stesso. Scusami Giuseppe di questa introduzione ma abbiamo fatto proprio un'unione di intenti questa mattina fra noi e la casa TICMIL. Prego Giuseppe. Figurati Francesco, infatti questo è un webinar un po' speciale proprio perché saremo anche collegati con gli amici di Vision Forex. Allora webinar presentato da me che sono country manager Italia di TICMIL e poi ci sarà l'operatività in real time con Nicola Parra che saluto. Nicola si sente l'audio? Ciao Giuseppe, buongiorno a te, grazie a TICMIL, un saluto anche ai ragazzi di Vision Forex e a tutti gli amici che ci seguono da casa. Ok, Nicola io prima di passarti il monitor con l'operatività come in ogni webinar che facciamo con TICMIL c'è una brevissima presentazione del broker. TICMIL è un broker non di Vindesk, il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidi provider regolamentato dalla FCA UK, quindi con fondi segregati separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,15 secondi garantita da oltre 10 server sparsi per il globo, i spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono le quote, non ci sono limitazioni sulle strategie utilizzate, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune come scalping, arbitraggio, chi più ne ha ne metta. Non ci sono né costi né sui depositi che sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei server di trading nel mondo di TICMIL, quello più importante ovviamente è Londra, poi c'è Nord Virginia, Tokyo e gli altri di backup. Potete comparare l'offerta di spread e commissioni di TICMIL con altri broker dal sito esterno di MyFXbook e noterete come molto spesso gli spread comprensive delle commissioni siano tra le più basse rispetto agli altri competitor. Grazie a queste caratteristiche TICMIL per due anni di fila è stata insegnita del riconoscimento come miglior broker a livello di esecuzione sia nel 2018 che nel 2019. E inoltre i primi 9 mesi dell'anno nonostante ESMA abbiamo comunque superato i record rispetto al 2018 superando anche il trilione come volume di trading. Allora io la presentazione del broker l'ho finita, Nicola io adesso ti passo il monitor così in modo tale che possiamo immergerci nell'operatività e quindi adesso dovresti riuscire a condividere il monitor. Perfetto, mostra schermo, direi che ci siamo, dateci conferma in chat, dovreste vedere il mio schermo con la piattaforma TICMIL operativa e due operazioni già aperte proprio per questo webinar. Esatto, io vedo, allora su Sdigen, un buy, è un sales sul bundle. È un sales sul bundle, esattamente, allora questo è come diceva Giuseppe l'ultimo di una serie di quattro webinar che abbiamo organizzato insieme con TICMIL durante i quali abbiamo parlato di vari temi, correlazioni, size da usare, money management eccetera e come promesso l'ultimo dei quattro webinar sarebbe stato appunto, che è quello di oggi, totalmente operativo e nel quale appunto oltre a fare trading live ho già queste due operazioni aperte. Cercherò in qualche modo di spiegare in linea generale le logiche sottostanti al mio protocollo operativo per insomma mostrarvi come mi muovo sui mercati. Allora, ho queste due posizioni, come vedete ho aperto e otto strumenti in contemporanea, questo perché chiaramente in un'ora di trading live per forza di cose insomma se si vuole fare dell'operatività bisogna cercare di forzare la mano e quindi ho ampliato al massimo il numero degli strumenti per cercare occasioni di trading. La mia in genere non è un'operatività di scalping, il mio protocollo operativo non è uno scalping, lavoro sul time frame a 15 minuti, le operazioni durano anche una, due o tre ore. Ne faccio mediamente due al giorno su ogni strumento che osservo, quindi per forza di cose dicevo in un'ora, ne ho già fatte due, ci sono questi due trading corso d'opera e quindi devo per forza forzare la mano, però chiaramente facendo trade secondo logiche operative sensate. Perché il dollaro yen? Perché il bund? Innanzitutto vi dico che delle due il bund è quello che mi piace meno, quindi adesso vado ad aprire il chart del bund. Come vedete ho un doppio sell per il semplice motivo che inizialmente avevo messo una size di 10 lotti anziché di 100 e quindi poi sono andato ad integrare con un sell di 90 per completare la size di 100 che era quella che inizialmente volevo utilizzare e quella che mi piace meno e quindi io vado immediatamente ad abbassare lo stop in pari così male che vada esco a 0, eccolo qua, sposto anche questo a 0, perfetto. Ok, sono sostanzialmente, ho annullato il rischio, questa è una cosa che chi mi conosce, chi mi segue sa che faccio molto spesso io prendo un 30-35 per cento di stop in pari e non sono assolutamente pochi perché quando le condizioni grafiche del mercato, la dinamica di prezzo che si sviluppa sul grafico me lo permette quello che cerco di fare è andare ad annullare immediatamente il rischio. In un webinar con Giuseppe e con Ticmi abbiamo parlato di come bisogna mettere in pratica quel famoso mantra che sentiamo ripetere continuamente cioè taglia le perdite e lascia correre i profitti. Sicuramente per la prima parte taglia le perdite, bisogna usare uno stop quindi avere la certezza di quanto al massimo si può perdere in quell'operazione e ancora meglio quando il mercato ce lo permette magari non troppo presto andare a annullare il rischio della trade. Tra l'altro come vedete in diretta la prima delle due parti di sell sul Bund fatte mi sono appena state stoppate a zero. Il Bund mi piace meno, dopo vi spiego perché come vi dicevo mi piace invece di più il dollaro Yen. Quindi vi vado a spiegare le logiche di questa operazione che ho fatto long sul dollaro Yen sulla quale tra l'altro posso anche mettere e questa volta non per prudenza ma perché le condizioni grafiche me lo permettono posso spostare lo stop in pari e attenzione l'avevo messo qua a 108 e 37 circa, 108 e 38 e poi vi spiego perché. Ok, torno a zoomare immediatamente, perfetto, mi sono stop in pari anche sul dollaro Yen. Vi spiego le logiche iniziali dell'operazione, quindi parto da un time frame daily come spesso bisogna fare per farsi un'idea di quello che lo strumento finanziario sta facendo e poi zoomo su 15 minuti perché di trading intraday si tratta e quindi la logica della mia operazione nasce proprio su un time frame piccolo, sull'intraday. Allora, dollaro Yen impostato al rialzo già da parecchio tempo, nello specifico dalla discesa che è avvenuta in alta volatilità quest'estate. Grande discesa di mercato accompagnata anche da una discesa, eccola qua, di dollaro Yen, termometro dei mercati positivamente correlato con l'equity, con l'azionario mondiale. Lui sale, gli indici mondiali tendenzialmente salgono, è lo strumento più correlato positivamente con gli indici, con l'azionario. Che cosa è successo? Dicevamo, dalla fine di agosto il mercato è ritornato assolutamente rialzista, è ancora rialzista, attenzione perché su un grafico daily siamo arrivati con le discese degli ultimi giorni a quello che a mio avviso è un livello di prezzo da ultima chiamata. Ne parlavamo anche prima, sia con Giuseppe Cericola che con Giuseppe Roccasalvo e Francesco Cerulo prima di partire con questo webinar. Attenzione perché in realtà il livello da ultima chiamata è quest'area di minimi qua che è posizionato in area all'incirca 100, questo minimo è stato fatto a 108,23 quindi diciamo 108,30 circa, 108,25, tutta quest'area di minimi che assolutamente il dollaro Yen non deve rompere al ribasso per confermarvi l'impostazione rialzista che dura già da qualche mese. Siamo arrivati molto vicini a quest'area o ancora meglio, siamo arrivati, e qui zoomo ancora di più sugli ultimi giorni, sull'ultima settimana, siamo arrivati a questo minimo del 4 di dicembre a 108,42, 108,43 che effettivamente ha generato un ribalzo del mercato. Il mio protocollo ragiona su una logica di equilibrio fra forze rialziste e ribassiste, pressioni fra compratori e venditori è un mercato, io lo dico sempre, quindi quello che ha sempre funzionato sui mercati e sempre funzionerà è l'equilibrio fra domande e offerta, l'equilibrio fra pressioni rialziste e pressioni ribassiste. Allora, se qua sul dollaro Yen c'era una precisa predominanza di forze ribassiste, questi due giorni sono stati improntati fortemente al ribasso, poi a partire dal minimo fatto segnare nella giornata del 4 dicembre, poco più basso di quello fatto segnare il giorno precedente, il mercato ha generato un rimbalzo che effettivamente lo ha lottanato da questo livello di minimi per tre giorni, uno, due, tre giorni, solo oggi siamo piano piano gradualmente in bassa volatilità tornati su questo livello di minimo. Di conseguenza, a mio avviso, questo livello di prezzo, questo minimo qua, è indiscutibilmente un livello importante da tenere in considerazione perché se qua c'era una predominanza di forze ribassiste, se qua Napoleone avanzava e i russi arretravano e non riuscivano a fermare l'avanzata di Napoleone, qui forse ce l'hanno fatta, ok? Qui forse siamo arrivati a quel punto in cui i soldati di Napoleone si sono fermati perché avevano freddo e è arrivato l'inverno, i russi sono riusciti a respingerli. Allora, inizialmente abbiamo una prima reazione, un primo rimbalzo del mercato e di solo rimbalzo si può parlare, quindi è solo un rimbalzo in questo momento. Poi cosa succede? Siamo ritornati su quel livello di prezzo, ma attenzione, già nella mattinata di oggi il mercato mi dimostra di riuscire a tenere questo livello, è stato fatto per adesso un doppio minimo perfetto e quindi io provo un long. Ma ancora di più nello specifico, perché io cerco questo long? Perché provo questa operazione? Perché la discesa su questo minimo qua è stata fatta in bassa volatilità, è stata fatta gradualmente, è stata fatta in tre giornate distinte. Sarebbe stato completamente diverso se dopo che il mercato ha generato questo minimo rimbalzo, se mi avesse fatto un ritorno su questo minimo in una sola giornata brutta, ribassista, negativa, con un'ampiezza pari a questa qua di rimbalzo, a quella precedente, allora sarebbe stato negativo, perché il mercato si sarebbe rimangiato nello stesso tempo, e da qua apro una parentesi anche con il rapporto sul tempo della trade è importante, il tempo del movimento del mercato, non solo la natura, la dinamica di prezzo, la natura del movimento, ma anche la tempistica del movimento di prezzo. Non è stato fatto in un giorno solo ad annullare questo rimbalzo, ma è stato fatto gradualmente in bassa volatilità in tre giorni. Questo è un terreno fertile per provare a ripartire al rialzo, è terreno fertile per un mercato rialzista. Quindi io che cosa faccio? Fatto questo ragionamento che questa mattina ho fatto, una mezz'ora fa, circa tre quarti d'ora fa, prima della diretta, e qui zoomo su un 15 minuti, sono andato a identificare questo livello di prezzo, e l'abbiamo detto prima, 108,43, 108,42, il mercato ci è tornato in tre giorni gradualmente, piano piano, e su un livello di prezzo così importante mi fa la più classica delle candele di inversione, è questa qua, delle 11 e un quarto. Quindi io decido di fare questo buy, è una size piccola, cioè oddio piccola, è piccola per me, per le size che solitamente utilizzo è uno zero uno, chiaramente piccola è relativo, ha ciascuno la sua size, ok? Deve essere ben proporzionata la size al capitale di trading che noi utilizziamo, ma deve anche essere ben proporzionata e adeguata a noi stessi. Dobbiamo essere in una zona di comfort, dobbiamo essere sufficientemente tesi e concentrati sulla trade da poter performare al meglio, perché se è una size insomma che noi rispettiamo, se è una size abbastanza importante per noi, noi diamo una certa importanza alla trade e quindi ci concentriamo, non ce ne freghiamo della trade, cosa che accadrebbe se utilizziamo una size troppo piccola, saremo superficiali, saremo meno freghisti, invece una size giusta, un buon equilibrio, quella size che non ci mandi nel panico per niente, che non ci faccia perdere lucidità per niente, per un movimento che, che ne so, per una candela del genere è un po' più grande delle precedenti, non andiamo nel panico, allora stiamo usando una size troppo grande, invece deve esserci un giusto compromesso. Non mi sto a dilungare su questa parte perché tra l'altro è stato il tema di uno dei tre webinar precedenti che abbiamo visto con Giuseppe Cericola, con Ticmil. Allora, la logica dell'operazione l'avete capita, adesso parliamo dello stop loss e del target, quindi perché sono andato a mettere inizialmente uno stop al di sotto di questo minimo? Ve lo faccio vedere in H1, semplicemente è il minimo che noi abbiamo visto anche sul grafico daily, cioè il mercato oggi ha fatto esattamente un minimo uguale, guardate lo andiamo anche a vedere, 108, 42,7, 108, 42,8. Il dollaro iene è stato veramente millimetrico oggi, ecco perché mi piaceva di più la trade sul dollaro iene, anche per questo motivo, quindi io sono andato a mettere uno stop loss ovviamente al di sotto di questo minimo. Mi sono dato un attimo di spazio, 108,37 mi pare, 108,36, sono entrati esattamente qui, a 46, mi pare di averlo messo a 36, quindi uno 0,10 di stop loss. Le regole meccaniche del mio protocollo operativo effettivamente prevedono che lo stop loss non venga messo assolutamente così stretto, chiaramente per una diretta che dura un'ora mi sono dovuto adeguare, ho messo uno stop sotto i minimi, però al di là della regola precisa e meccanica del mio protocollo operativo, che adesso magari non entro nei dettagli perché uno ci metterei un giorno intero a spiegarvi tutte le regole del mio protocollo operativo, due i miei corsisti che hanno fatto il corso sul mio protocollo giustamente si arrabbierebbero, però qual è la logica? Quando decadono i presupposti della mia operazione, quando il mercato mi dà torto, ho fatto tutto un discorso, tutto un ragionamento su quel minimo che era stato toccato quattro giorni fa, quel minimo deve essere tenuto, su quel minimo ho trovato un segnale long, i presupposti della mia trade sono la tenuta di quel livello, la tenuta di quel minimo di prezzo importante, quindi se il mercato mi va stabilmente sotto quel livello, io mi devo stoppare, quindi diciamo al di sotto di quel livello, stando un pochettino largo, ho messo uno stop loss e sarebbe stato uno 0,10. Guardate invece il target, siamo in area 108 e 90 circa, quindi stiamo parlando di 1,045, quasi mezza figura, 0,10 di stop, 0,45 di target, è un rapporto 1 a 4,5, assolutamente eccezionale, io faccio tranquillamente anche trade con il rapporto rischio rendimento 1 a 1, quindi questa qui è assolutamente, dal mio punto di vista, eccezionale. Un target che, attenzione, potrebbe anche non essere raggiunto in giornata, qua è vero che ho usato un long, diciamo la trade long, era una trade intraday, lo stop loss pure, era uno stop loss veloce intraday, cioè mi doveva subito partire il dollaro yen da questo livello di prezzo, se no mi stoppavo senza alcun problema, senza alcun rimpianto e il target invece è un target effettivamente così ambizioso che forse è un target multiday, la vedo dura che possa essere raggiunto nella giornata di oggi, sarebbe veramente una giornata particolarmente eccezionale per il dollaro yen, però insomma la logica è quella di poter confermare questo doppio minimo, ripartire a rialzo e sicuramente indiscutibilmente questo livello qua è un livello di prezzo importantissimo, perché? Perché il primo rimbalzo generato quattro giorni fa di cui prima abbiamo parlato si è proprio fermato su quest'area di prezzo, quindi 108 e 90 e non si è fermato su questo livello di prezzo soltanto in prima battuta il giorno successivo, quindi il 4 dicembre, ma poi si è continuamente fermato su questo livello di prezzo. Questa è la notte del 5, qua invece è il giorno, per lo meno orario europeo del 5, di nuovo nella giornata del 6 di venerdì si è rifermato a quel livello di prezzo, quindi sicuramente è un livello di resistenza importante che a questo punto per me può essere utilizzato come target. Guardate anche qua, la prima gamba ribassista, il primo impulso, la prima discesa, tra l'altro c'era anch'essa fermata su questo livello di prezzo, un primo rimbalzo e di solo rimbalzo si trattava e poi seconda gamba di impulso ribassista, quindi mi sembra evidente graficamente come questo livello, quest'area di prezzo sia un livello che negli ultimi giorni, nell'ultima settimana è stato sentitissimo dal dollaro yen, sia come supporto che come resistenza statica. Nel frattempo, Giuseppe, se ci sono delle domande interrompimi pure. Sì, ci sono un po' di domande. Allora, una te la faccio io su dollaro yen. Tu sei entrato in funzione della falsa rottura di quel supporto. Qualora dovesse comunque venire il prezzo a riprenderti quel break even, valuteresti sempre comunque nuove possibilità, rialzisti in giornata oppure ti fermeresti a questa operazione? Allora, bella domanda, grazie Giuseppe. Sicuramente. Allora, adesso tra l'altro, secondo le regole del mio protocollo, dovrei alzare lo stop in pari e trasformarlo in uno stop profit. Dunque, questa candela a 15 minuti non ha ancora chiuso. Si potrebbe spostare, eccolo qua, pardon, lo faccio in diretta, scusate, trascina per modificare. Si potrebbe spostare sicuramente qua sotto. Quindi almeno 21 pips me li sono garantiti. Se torno a quel livello di prezzo, dove sono entrato, un primo buy lo riproverei. Chiaramente deve essere accompagnato da un segnale come quello che ho visto questa mattina qua. Quindi a un primo tentativo sicuramente di tenuta, di ulteriore tenuta di quel livello, il buy lo proverei. E poi magari mi rimbalza di nuovo, mi va di nuovo su, facciamo finta che torna una terza volta giù, mi ribecca lo stop a break even, lo stop a pari. A quel punto non lo provo più, perché se questo è un livello forte, se questo è un livello vero di ripartenza rialzista, non deve essere testato, toccato più volte. Poi attenzione, la risposta in realtà potrebbe anche essere diversa, perché mi rimbalza, torno giù, ci riprovo, mi rimbalza, torno giù, magari non ci provo più. Però attenzione, se il mercato sta anche ore e ore su questo livello di prezzo, oscilla avanti e indietro, torno a quel livello, in bassa volatilità, senza escursioni di prezzo nervose, eccetera, è un segnale positivo, vuol dire che c'è una dinamica di riacquisto, una dinamica di riaccumulazione su quel livello di prezzo e allora posso provare tutti i long che voglio, cioè il mercato mi oscilla su quel livello, ogni volta che mi dà un segnale io provo il long. Ecco, è importante quindi analizzare anche cosa fa su quel livello di prezzo il mercato e non soltanto il livello in sé. Ok, perfetto. Poi Vincenzo ti chiede, è spiegato comunque su Dollar Yen che l'operazione è stata aperta perfettamente per un'analisi di price action, ma ti chiede se usi indicatori di market profile o di volume profile. No, assolutamente no. Tra l'altro avevo spiegato come in uno dei webinar che abbiamo fatto insieme a TICMIL, forse il primo, non utilizzo indicatori oscillatori di analisi tecnica, li ho tolti dal mio protocollo operativo e non uso nemmeno i volumi. Vi spiego perché. I volumi sul mercato possono essere eseguiti in una miriade di luoghi virtuali tra i più disparati, in una miriade di modalità tra le più disparate e questa condizione, è un dato di fatto, fa sì che noi non abbiamo mai i volumi completi, totali, esaustivi del mercato, ma banalmente senza andare a scomodare dark pool, internalizzatori sistematici, scambi fra istituzionali, banalmente anche l'OTC, ok? Se noi siamo su un determinato mercato e vediamo i volumi di quel mercato che vengono scambiati su quel mercato, banalmente uno scambio importante fuori mercato che viene fatto magari da degli istituzionali che per lo più tra l'altro vanno proprio, non vanno magari diretti sul mercato, le modalità veramente sono le più disparate, lavoravo al desk conto terzi e non solo, anche conto proprio di Banca Letti e Banca Emi, quindi ne ho viste di tutti i colori e noi quella trade ce la perdiamo, quindi per farla breve, abbiamo un indicatore sui volumi, una tecnica sui volumi, bellissima, fantastica, noi siamo bravissimi ad analizzare i volumi, il nostro indicatore è perfetto, la nostra tecnica è perfetta, peccato che parte da un dato di partenza incompleto, non esaustivo, quelli non sono tutti i volumi che vengono fatti su quello strumento, quindi noi possiamo essere bravissimi, la nostra tecnica è bellissima, il nostro indicatore è perfetto, tutto è basato su un dato di partenza non completo, quindi anche i volumi li ho esclusi dal mio protocollo operativo per questo motivo, così come gli indicatori oscillatori di analisi tecnica. Il mio protocollo operativo, 12 anni che faccio trading, fra pochi mesi saranno 13, si basa solo ed esclusivamente su delle regole meccaniche legate alle configurazioni grafiche di prezzo che lo strumento che sto analizzando mi propone, mi fa e null'altro. Chiaramente la logica, la base sottostante è la dinamica di prezzo, l'equilibrio fra compratori e venditori. È evidente che qua sul dollaro yen c'era una pressione ribassista e le forze a ribasso predominavano, le vendite predominavano, come dico sempre nella mia metafora, Napoleone avanzava e i russi arretravano e adesso è evidente che è cambiato qualcosa. Da quando sono entrato long sul dollaro yen adesso c'è un equilibrio, una dinamica diversa, non è più Napoleone ad avanzare ma sono i russi che stanno recuperando terreno, quindi nell'intraday stretto siamo su 15 minuti, qua c'è una predominanza di forze ribassiste che a mio avviso cambia al di sotto di questo livello e non a caso qui ho messo uno stop in profitto. Ottimo, perfetto. Allora poi le domande sono, ovviamente questa è un po' operatività live, ma vedo che nella tua watch list hai inserito anche il DAX. Sì. Dico, ti fa una domanda un po' particolare, è un po' lungo, io te la leggo. Allora, buongiorno Nicola, le volevo chiedere, solitamente riesce spesso ad identificare il settlement del DAX del venerdì? Utilizza solo i dati dell'open interest o ci sono altri indicatori che aiutano a prevedere tale livello? Nelle ultime settimane ci sono state due liquidazioni di oltre 40 punti di differenza tra prezzo delle 13 e il settlement. Sì, 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 bella domanda. Allora, sicuramente mi segue da tempo e sta parlando di un'analisi che io faccio appunto sulle posizioni aperte in opzioni alias l'open interest per determinare sulle scadenze mensili delle opzioni quello che sarà il prezzo di regolamento più probabile. Allora, per rispondere alla primissima domanda, è un'evoluzione, o meglio non un'evoluzione, è un'analisi dell'open interest. Quindi io uso, guardo, quelle che sono le posizioni aperte sul mercato, le posizioni aperte sulle opzioni, per esempio lui cita il DAX del DAX, ho una mia analisi particolare, faccio tutta un'analisi, un'elaborazione che mi dà quello che è il valore più probabile di regolamento a scadenza. Lo faccio solo sulle mensili, lo faccio una settimana prima della scadenza tecnica mensile, perché più la scadenza è vicina e più l'analisi mi dà un risultato, la mia elaborazione mi dà un dato statico, che da lì in poi, da lì a scadenza non cambierà più. Perché una settimana dalla scadenza? Perché i giochi sono fatti, perché ormai le strategie in opzioni stanno solo aspettando di arrivare a scadenza, molti hanno già chiuso, chi deve aggiustare, deve sistemare una strategia, ormai non ha più spazi, le opzioni ormai si sono trasformate nei movimenti, si muovono come sottostante, non hanno più valore temporale, eccetera, eccetera, e soprattutto a una settimana dalla scadenza c'è, ci sono le posizioni sulla scadenza settimanale, sull'ultima scadenza settimanale, che sono andate, sono scadute, sono morte. E quindi diciamo che l'analisi è più realistica, ha più probabilità di successo, perché il mercato sottostante è libero di muoversi in funzione delle posizioni aperte solo sulla scadenza mensile, perché anche l'ultima settimanale è scaduta, quindi non influenza più l'andamento del sottostante. Per chiudere, ho notato anch'io che le ultime scadenze mensili e gli ultimi valori di settlement e di regolamento sul DAX sono stati un po' balordi, un po' balordi, ne hanno parlato anche tanti colleghi trader sui social, probabilmente avrete letto. Ci sono delle regole precise di definizione del valore di regolamento del settlement del venerdì di scadenza delle opzioni per il DAX ora è 13, dopo le 13 si viene fatto tutto questo calcolo e magari i tedeschi un giorno ci spiegheranno bene tutte le regole così possiamo essere sicuri che fanno un settlement insomma corretto e preciso e non tarrocchato, però effettivamente c'è stato un po' di clamore sulle ultime insomma sugli ultimi settlement, sugli ultimi valori di regolamento sono stati effettivamente un po' sfalsati rispetto al valore dell'indice nell'orario di scadenza, ma sicuramente ciò è determinato dalle regole di di calcolo. Ottimo, allora Nicola ci sono altre domande dal webinar perché comunque stanno venendo la tua watch list, però io direi un attimo di lasciare spazio e di chiedere a Francesco se ci sono domande da parte degli utenti di Vision Forex, così diamo avanti. Eccomi Giuseppe, sì assolutamente. Vado appunto a girare a Nicola alcune domande che ci hanno riportato gli utenti che stanno seguendo appunto il webinar stesso, Roberto dice euro sterlina nel breve periodo come lo vedete, mentre per quanto riguarda Luciano qua può intervenire credo anche tu Giuseppe perché dici sarebbe possibile c'era Roberto prima che aveva chiesto il DAX e l'euro dollaro, quindi un pochino una panoramica per quanto riguarda questi questi strumenti. Per quanto riguarda lo strumento non so se vuoi rispondere tu Giuseppe, mentre per il resto poi io mi rimetto il mute e lascio parlare Nicola. Allora Euro GBP, se ho capito bene, intanto lo apro Francesco, poi non ho capito gli altri strumenti, ho capito DAX sicuramente ce l'ho già aperto, altri strumenti. Ci arriviamo Nicola, facciamo così, faccio rispondere a Giuseppe per quanto riguarda lo strumento evidenziato, perché per quanto riguarda la piattaforma li troviamo in vari punti, magari Giuseppe ci dai tu una mano per aiutare. In alto a sinistra sul grafico c'è scritto il simbolo, ad esempio prima Nicola ha operato su USDDN e vedete che in effetti quando lui poi apre il grafico di USDDN c'è scritto in alto a sinistra il simbolo, quindi si vede chiaramente da lì. Poi questo è un po' c'è anche sulla finestra dati che si può comunque vedere il simbolo, ci sono un po' varie parti in cui è possibile andare a vedere su quale simbolo stiamo operando. Poi Nicola, ne approfitto, visto che ti hanno chiesto da Vision Forex una view su Euro sterlina, c'era una domanda, proprio perché comunque la settimana sarà molto impegnativa sul lato della sterlina, visto che ci saranno anche le elezioni, se tu in queste situazioni vai ad operare oppure rimani flat e aspetti prima che comunque le acque si cammino e poi magari vai a cercare dei setup sulla sterlina oppure operi anche prima del dato. Sì, rispondo subito, grazie per la domanda. Il 12 dicembre ci sono le elezioni UK e più ci si avvicina a quella data, a mio avviso è un ennesimo referendum sulla Brexit, dopo più di tre anni, era il 21 giugno mi pare, nel 2016, siamo a dicembre 19, facciamo un nuovo referendum sulla Brexit. Più ci avviciniamo al giorno del 12 con Johnson in vantaggio nei sondaggi, più si rivoterà Brexit, permettetemi questa semplificazione, e più l'Euro GVP scenderà ed effettivamente ha già cominciato a farlo nell'ultima settimana. È particolarmente impostato a ribasso, lo è da quest'estate, quindi niente di nuovo, continua nel trend, quindi per adesso io cercherei soltanto di shortare i rimbalzi, posso anche permettermi di operare vicino ad eventi così importanti, che sicuramente genereranno alta volatilità. Io se sono consapevole che c'è l'elezione, che l'elezione porterà alta volatilità, io consapevolmente, conscio di questo, posso decidere di operare, sicuramente dovrò usare una size più piccola di quella che normalmente utilizzo, sicuramente dovrò utilizzare degli stop, ma anche dei target più ampi, più larghi di quelli che solitamente utilizzo, perché mi aspetterò che per esempio le candele daily, adesso qua sono andato sul grafico daily, non saranno di questa ampiezza, qua era tutto fermo, anche la sterlina, il cable era in trading range, qua lo vediamo anche il trading range sull'euro GBP, ma all'improvviso le candele torneranno ad essere qualcosa del genere. Quindi la volatilità, o perlomeno volatilità non è la parola corretta, perché se poi ci sono delle candele cattive di esplosione rilassista, magari la volatilità scende pure, per correlazione inversa. Quindi diciamo l'escursione media di prezzo giornaliera, che banalmente potete osservarla con una TR, aumenterà notevolmente. Guardate la differenza fra queste candele è queste qua. Sono 5-10 volte più grandi di queste qui, ok? E qualcosa si comincia già a vedere. Nell'ultima settimana le candele sono state sicuramente ribassiste e l'ampiezza è piano piano aumentata. Quindi a mio avviso il mercato è impostato a ribasso, attenzione al rischio di sell on the rumours and buy on the news, al contrario di come di solito si dice. Perché dal cambio io vedo che si sta scontando una vittoria di Boris Johnson. Se così sarà, probabilmente questo cambio ha già in grandissima parte scontato quell'esito e quindi poi non ci stupiamo se una volta che abbiamo l'esito ufficiale delle elezioni magari sta fermo, addirittura va in direzione opposta al rialzo, ok? Cosa diversa sarebbe se invece Johnson perde. E qui sarebbe veramente bello perché il cambio cosa ha fatto? Il cambio ha scontato una vittoria di Johnson. Arriva il risultato, Johnson vince e a quel punto c'è molto più spazio di rimbalzo al rialzo per questo cambio che non il contrario. Quindi sarebbe forse quella la bella notizia per un trader, la vera occasione di trading e di acquisto su questo cambio. Quindi impostazione ribassista, nulla da dire, stanno scontando una vittoria di Johnson. Se così sarà, ribasso e gli spazi ci saranno magari ancora, ma saranno piccoli. Se succede il contrario, al rialzo ci sono delle praterie. Ok, perfetto. Poi ti fanno una domanda sul gold, visto che è nella tua watch list, se hai in mente comunque di aprire delle posizioni in giornata oppure no. Allora, vediamo subito il gold. Nel frattempo stop in pari sul bund, avrò guadagnato 4 spiccioli, stop in profit sul dollaro yen e quindi le due posizioni che avevo aperto sono finite. Il bund in pari, sostanzialmente, praticamente in pari, e il dollaro yen in piccolo profit. Quindi volentieri proviamo a cercare magari qualche nuova posizione. Allora, il gold è fantastico. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ne ho parlato tanto ultimamente. C'è questo bellissimo livello di 1450 dollari che ha funzionato da supporto e continuerà a farlo. Quindi io lo aspetterei magari per un buy qua giù, sui 1450, 1455, se voglio prenderlo un po' più in anticipo. E io pensavo, avesse la forza di rompere questo massimo nei giorni e nelle settimane scorse, effettivamente da qua è ripartito, come pensavo. Lo dicevo nella mia videoanalisi del venerdì, era questo giorno qua, il 29 mi pare. Effettivamente da qua è ripartito a rialzo, è stato un bellissimo long, il primo target ovviamente era questo massimo importante qua del 20 di novembre, però pensavo potesse avere la forza loro di rompere a rialzo questo livello, così non è stato. I rialzisti hanno subito preso profitto su questo livello di massimo importante ed è tornato giù. Quindi il gold è fantastico, impostato in un trading range, che a mio avviso prima o poi si esaurirà in un long, è solo una mia opinione, poi vediamo il mercato, quali informazioni ci dà e aggiorniamo l'analisi di volta in volta. Quindi sicuramente per il gold che è ingabbiato in questo trading range è più long che short, perché siamo molto più vicini alla base, al pavimento di questo trading range che non ha soffitto. Quindi se io zoomo su un time frame a 15 minuti, effettivamente c'è stata anche, dunque questa è la nottata, quindi apertura dei mercati asiatici, c'è stata una bella riaccomulazione su questi minimi, non è importantissima perché non è che ci sono volumi enormi in questi orari, in questa fase, però diciamo che sono più long che short, entrare qui sarebbe entrare in corsa, lo si potrebbe anche fare e metterei uno stop, quindi se si entra adesso a 63,50, proprio in diretta in questo momento, 1463,50, io andrei a mettere uno stop qua sotto, andrei a mettere sicuramente uno stop qui sotto, quindi abbastanza stretto, siamo sui 1.4 e 62, anche 61,80 e insomma i target poi diventano diventano ambiziosi, se la configurazione grafica me lo permette a un certo punto si potrà anche mettere uno stop in pari, magari con una chiusura di candela sopra 1.464 punti dollari, e a quel punto si prova a lasciar correre la trade. Io come vedete cerco subito di annullare il rischio delle mie operazioni, però poi quando sono entrato, sono dentro, insomma gli lascio spazio di correre, lascio spazio alla trade di incrementare i profitti anche a costo di mangiarmi ad un certo punto un bel gain potenziale che a un certo punto potevo aver raggiunto. Sono anche disposto a insomma ad annullarne, a bruciarne un 50% senza problemi, però però prova a lasciar correre la trade ed è l'unico modo per lasciar correre davvero i profitti. Vediamo un po' questo livello qua. Tra l'altro non so se posso intervenire, chiedo anche a Giuseppe Cericola il tutto perché ci sono appunto due domande, una da parte di Antonio su YouTube che dice quali sono le tue giustificazioni per un rialzo, cosa c'è di scientifico di sicuro? Beh, sicuro è un parolone, mentre un altro utente, Tony, ci chiede uno sguardo a oil, Dax e Sterlina, per quanto riguarda il Dax e Sterlina l'abbiamo fatto, non abbiamo magari visto l'oil, non so se possiamo farli tutti quanti così ci adono nuovamente la parola a Nicola. Ok, Dax e Sterlina l'operatività live che stai facendo sul Gold. Ecco, hai visto Giuseppe, bravo. Lo metto subito, guarda, no, perché ci può stare, visto che è un trading live, adesso manca un quarto d'ora, io volevo mettere un 1463,20, 1.4101 va benissimo, 1.463,20. Dunque, stop loss avevamo detto qua sotto, adesso poi magari li sistemo con calma direttamente da grafico, qui vabbè, posso mettere anche 1.470, no scusate, questo è lo stop, diciamo 1.470 di target, buy limit, ok, posiziona, vediamo se ce lo esegue, va bene, lo stop è stretto, mi va benissimo. Quindi ti vai a prendere un pullback in quella zona lì, quindi il target abbastanza ambizioso, e poi parlavi di quel livello di 1.450 che sicuramente è molto appetibile come supporto, ma in quel caso anche lì entreresti con una buy limit o vai a cercarti un setup di price action come hai fatto con il dollaro yen? Allora, scusa, torno sul daily, il 1.450, eccolo qua, allora ho delle regole precise, meccaniche che applico come un soldato e non mi invento niente, e questo è il mio protocollo operativo, cioè un insieme di regole meccaniche che io devo applicare, punto e basta, e quindi al 1.450 ci deve essere una, non basta, ecco per risponderti, non basta solo un livello per entrare long o short, mi serve anche che su quel livello ci sia una precisa configurazione grafica che io ho, diciamo, meccanicizzato, definito con delle regole precise, se c'è quella precisa configurazione grafica, ho tutti i miei calcoli da fare, allora entro long, poi ci sarà anche una regola che ci dice a quale prezzo entrare, adesso i miei corsisti lo sanno bene, e quindi diciamo che 1.450, ma anche 1.455 sul daily, visto che di daily stavo parlando prima, è un livello importante, quindi è un livello alert, su quel livello alert la candela daily, visto che siamo sul daily, deve avere precise, determinate caratteristiche, allora io entro long, se non le ha non faccio niente, posso perdermi magari il rimbalzo, perché lo fa lo stesso anche se non dà il segnale che io cerco, oppure visto che non dà il segnale che io cerco, con quelle caratteristiche meccaniche precise, grafiche, magari è proprio un motivo che fa rompere al ribasso il livello all'oro e come tutti i livelli può essere rotto. I livelli sensibili orizzontali hanno una caratteristica, se ben identificati, o bianco nero, cosa vuol dire? O il livello tiene, o sul livello che noi abbiamo identificato si formano dei massimi e dei minimi importanti, oppure il livello viene rotto con forza. Quando un livello è davvero importante, o tiene o viene rotto con forza, non ci sono vie di mezzo. Dicevo, di scientifico chiaramente non c'è niente, per rispondere anche all'ascoltatore, io ho sviluppato il mio protocollo operativo di trading meccanico in questi quasi 13 anni di operatività sui mercati, ho trovato il mio equilibrio, alla fine dell'anno sono profittevole, devo dire che con mio stupore ho trovato anche una costanza di rendimento annuale. Io mai avrei pensato che col trading si possa avere il guadagno fisso giornaliero, il guadagno fisso settimanale, mensile, ma nemmeno annuale. E invece negli ultimi 4-5 anni una costanza, almeno su base annuale, l'ho raggiunta, vi ripeto con stupore, quindi sono molto contento. Tra l'altro, visto che abbiamo fatto un accordo con Giuseppe, approfitto per dirvi che se avete un conto TICMIL o se aprite un conto con TICMIL, avete diritto ad uno sconto fino al 33% sul corso, sul mio protocollo operativo. Questi sono i miei contatti, quindi se volete contattate Giuseppe oppure contattate me, se siete interessati vedremo tutte le informazioni. Direi di passare sul, dimmi tu Giuseppe, sugli strumenti che ci hanno chiesto o su alto. Francesco ha detto se non sbaglio il WTI, io direi magari, adesso visto che mancano pochi minuti, facciamo una carrellata veloce sulla tua voce list, tra l'altro vedo anche il WTI, partendo appunto dal petrolio e portiamo il webinar. Quindi se hai individuato qualcos'altro in questi pochi minuti magari facciamo solo un'analisi e poi ci salutiamo. Ok, nel frattempo qua non dovrebbe averci eseguito, dopo controlliamo. Comunque stop e target li abbiamo posizionati, quindi se anche dopo il webinar qualcuno a suo rischio e pericolo vuole fare questa trade, lo stop è definito, il target pure, insomma basta rispettare gli stop e danni grossi sui mercati non se ne fanno, si fanno invece quando non si rispetta lo stop che ci si è dati, cioè il limite alle perdite, che dobbiamo sempre averlo. Allora, eccolo qua il petrolio, impostato a rialzo indiscutibilmente dall'inizio del mese di ottobre, come dall'inizio del mese di ottobre sono impostati a rialzo gli indici e permane questa positività. Quindi io sicuramente cercherei delle entrate long sul petrolio. siamo arrivati, ha fatto 60 perché avevo parlato nei giorni scorsi di 60 dollari, forse non c'è arrivato, no 59,77 nella giornata di venerdì, siamo andati vicino, avevo parlato di questo target a 60 dollari perché anche se l'impostazione rialzista c'è questo target di 60 dollari diciamo dinamico che è praticamente stato raggiunto, siamo in una fase di pullback, di ritracciamento, sicuramente 58 e mezzo il livello attuale è un primo livello di supporto dove provare dei long intraday. È un bel livello questo, guardate quanti massimi nei giorni scorsi sono stati fatti su questo livello, quindi 1, 2, 3, 4, 5 massimi importanti in 5 giornate e adesso stiamo lavorando dall'alto quel livello, quindi qui sicuramente siamo su un primo supporto importante e poi indiscutibilmente questo 57,7 è il successivo livello che il petrolio mi deve tenere per confermare l'impostazione rialzista. Un terzo ed ultimo livello importante, lo identifico sicuramente qua, a 56,7 quindi sempre 1,7, 56,7, 57,7 e 58 e mezzo. Sono i tre livelli di pullback importanti dai quali il petrolio potrebbe ripartire al rialzo. A seconda della forza può partire dal primo, può ripartire dal primo oppure dall'ultimo, però anche qua sono livelli che io metto in alert che tengo sott'occhio, se lì c'è una precisa configurazione grafica che mi dà un segnale long e entro long. Vediamo tra l'altro, poi attenzione, anche se scende fino a 55 dollari comunque non nega l'impostazione rialzista che dura da più di due mesi, solo sotto 55 dollari inverte il ribasso, dovesse addirittura scendere fino a 55 dollari, magari mi posso aspettare l'inizio di una tendenza neutrale e non più rialzista come quella attuale. Vediamo velocemente su 15 minuti se c'è qualcosa di interessante, no, no e quindi anche se il livello è importante mi astengo dal provare un long. Ok, avevano chiesto anche il DAX, vero? Magari facciamo anche il DAX, cosa dite? Eh sì, il DAX c'era anche una domanda su euro-dollaro che vedo che adesso ha riflesso a risalire. Sì, come vuoi Giuseppe, dimmi, dimmi tu. DAX e euro-dollaro noi chiudiamo, visto che comunque sì abbiamo coperto anche tutta la tua voce lista. Ok, eccolo qua il Germany, parto sempre da un grafico giornaliero e attenzione perché io ne ho parlato nei giorni scorsi, se questa candela qui, quella del 20, scusate, 2 dicembre scorso, sembrerebbe la candela che annulla definitivamente questo trend rialzista che durava da più di due mesi sul DAX, o meglio. Trend rialzista dall'inizio di ottobre fino alla prima settimana di novembre compresa. Trend neutrale dal 7 di novembre fino a questa candela qua e a mio avviso, ne ho parlato spesso, questa candela poteva essere quella che definitivamente apriva la strada a un ribasso. Guardate anche questa cosa, per trovare una candela così brutta come questa, noi dobbiamo tornare indietro al 2 di ottobre. Cioè in tutta questa salita al mercato una cosa del genere non l'aveva mai fatta. Provate a osservare anche queste cose, quando una cosa del genere si verifica e non si era mai verificata in due mesi di trend long o neutrale, allora evidentemente qualcosa sta cambiando. È una cosa che io non posso sottovalutare, che devo tenere in considerazione e quindi poteva essere la candela che apriva la strada a un ribasso. Quindi al limite, ma veramente veramente al limite, siamo ancora in una fase di rimbalzo. Cioè a bruciapelo possiamo ancora considerare questo movimento, questa risalita dei prezzi, un rimbalzo da vendere. Siamo veramente al limite perché siamo arrivati appunto in quest'area di prezzo dove ci sono tanti minimi fatti anche in intraday, qua sui 13.150 punti nel mese di novembre, 160, 130, 170, 140, è un livello veramente importantissimo. Arrivato qua il DAX veramente deve assolutamente scendere e bucare i minimi per confermare l'impostazione ribassista. Se fa una chiusura di giornata, per esempio, sopra 13.200 punti a 13.190, 200 punti o più, allora basta, non è più un rimbalzo ma è qualcosa di più. Eurodollaro, eccolo qua, parto anche qui da un daily, impostazione ribassista che dura da tanto tanto tempo. Guardate, addirittura dobbiamo tornare all'inizio del 2018-2019 per vedere i massimi che, dai quali poi è partito questo trend ribassista dell'euro-dollaro. A mio avviso è dovuto a un semplice motivo, la politica monetaria BCE è più espansiva e più accomodante di quella USA. Quando guardiamo l'euro-dollaro noi dobbiamo ragionare su quello che fa la Fed, dollaro, e su quello che fa la BCE, euro. Non apro questa parentesi perché se no finiamo il webinar a luna. Quindi, attenzione perché è vero che l'impostazione di medio-lungo periodo è ribassista, però l'euro-dollaro ha fatto questa bellissima risalita nel mese di cavallo tra settembre e ottobre. E poi è andato giù a pullbackare su un livello molto importante, che è quest'area qua di 1,10 circa, 1,10 tondo. E su quest'area di 1,10 tondo, magari zoom un po', ha fatto un minimo, qua importante, rimbalzo e di nuovo una riaccumulazione, un tentativo di rottura non andato a buon fine, molto importante. Anche qua ne avevo parlato proprio il 29 che dovrebbe essere questo giorno qui, eccolo qua, venerdì 29, nella mia videoanalisi settimanale, avevo detto di come l'euro-dollaro era assolutamente pronto a ripartire al rialzo. Così è stato, primo livello di resistenza, vado velocemente anche per chiudere, raggiunto. Qui ha fatto molta fatica a superare questo livello, il giorno 4 dicembre ha fatto la più classica delle candele di inversione ribassista, effettivamente sta scendendo. Però in un intraday stretto possiamo pensare che l'euro-dollaro ritorni piano piano giù anche a 1,10. A mio avviso però il doppio minimo 1,10 è già stato fatto, qua non ci deve tornare. Il primo tentativo di rottura di questo importante livello ha praticamente 1,11 quasi, poco meno. Il primo tentativo è stato fallito però potrebbe aver preso la rincorsa per ripartire al rialzo e rompere il livello. Quindi veramente l'euro-dollaro in questo momento è molto né carne né pesce, mi asterrei a tradare questo cambio, sicuramente se torno giù a 1,10 qua cerco dei segnali long con una size anche importante, posso permettermi di utilizzare, oppure al contrario lo compro sulla forza. Cioè se rompe gli 1,11 e 11, questo livello qua, di prezzo qua, 5 volte 11, 5 volte 1, pardon, allora posso addirittura comprarlo sulla forza. Zoom sull'intraday e ogni piccolo ritracciamento provo a comprarlo. Perfetto, quindi poi sull'euro-dollaro aspettiamo magari questa settimana con la conferenza della BCE che è giovedì 12 dicembre, che sarà sicuramente una giornata molto ricca sui mercati, quindi piena volatilità. e niente, quindi adesso Nicola io direi che abbiamo visto tanto in questo webinar, anche a, stavo leggendo delle domande, delle domande sui tuoi corsi, meglio comunque inviare l'email, magari Nicola se puoi dimostrare l'email. Sì, eccola qua, nicolaparatrading.com, poi al di là della mail per le informazioni, ci sono anche i miei canali gratuiti, canale YouTube, Telegram, Facebook, per esempio la videoanalisi settimanale la pubblico su questi canali, pubblico i miei appuntamenti, la mia operatività, eccetera. Ok, io quindi adesso passo la nina a Francesco, così salutiamo anche i miei amici di Vision Forex. Grazie, grazie mille a Giuseppe Siricola per questa condivisione che abbiamo fatto questa mattina, spazio appunto totale all'educational, grazie Nicola Parra, io vado a salutare tutti gli amici di Vision Forex, ritorniamo in diretta a mercoledì mattina, questa volta a partire dalle ore 8.45, questo è il nostro closing, io lascio poi chiudere il webinar per quanto riguarda appunto TICMILLE stessa, grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie Francesco, un saluto agli amici di Vision Forex, allora chiudo anche il webinar e vi ricordo che il prossimo è in programma, venerdì 13, insieme a Tony Ciollicuviani, anche lì parleremo di operatività live. Grazie Nicola per questa serie di webinar, io vi ricordo che ne abbiamo fatti quattro con Nicola, potete andare su YouTube sulla playlist di TICMILLE, playlist italiana, e trovate le registrazioni lì, anche questo ovviamente sarà registrato, sarà disponibile tra qualche ora, e quindi sempre iscrivetevi al canale di YouTube per visualizzare la registrazione. Grazie a tutti e grazie Nicola per quest'ora di Training Live. Grazie Giuseppe, grazie TICMILLE, Vision Forex, un saluto a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.